Oh bene, c'hanno un sacco di quei cosi. Ok. Non penso di poterlo distruggere se non è attivo, no? No. Ok. Dammi frecce, dammi vita. Altri laser. Eh, lì c'è lo scrigno. Lo scrigno grande. Ok. Uh, tre cuori. È un porta felicità a quanto pare. Ok, ci sono tre interruttori. Usiamo tre statue. Niente di nuovo. C'è due statue più Link. Perché non ci sono tre statue. Ok. Nice. Oi. E apriamo lo scrigno. Per trovare, sorpresa, sorpresa. La chiave, grande, la grande chiave. Ora puoi entrare nella sala del signore del labirinto. Oh, 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 oh. Sono vivi adesso. Ok, posso entrare nella sala del padrone del labirinto. Donde sta se è il padrone del labirinto? Oh, una mezza idea che dovrò sconfiggere voi. Per scoprirlo. Ok. Ecco, gli ho sconfitti. Lasciami passare. Penso che dovete sconfiggere tutti i nemici, comprese le torri da guardia. Come si chiamano. What the fuck? Ragazzi! Siamo già alla fine, eh. Non ci crederete, ma siamo alla fine. Siamo... All'esterno della torre, ma siamo alla fine. Un vantaggio di... Di queste torri di osservazione è che sparano solo dritto. Quelle blu. Quindi potete semplicemente prenderle di mira, sparare una freccia. E questo è quanto. Ah, quella è una normale. Quelle normali sono più rompiscatole di quelle... Di quelle... E anche tu. Cuore. 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 E tu, shut up. Siamo davvero in alto, suppongo. Mi interesserebbe vedere... Scusate il temporeggio, ma tanto questo dungeon è stato corto, quindi... Cioè, in confronto a tutte le side quest che ho fatto è davvero corto. No, non si vedono le altre isole. Sarebbe stato interessante. Se si potessero vedere le altre isole da quassù. Eh, questi due li evito semplicemente. Riempiamoci. Non ce la faccio, vero? Mi ha toccato, mi ha toccato! Ok, ho preso la fata. Nice! Hai posto la fata nell'ampolla. Una graziosa bla bla. Voilà. E... Dovremmo esserci. Signore e signori, questo è il boss. Siete pronti il vostro arco? Le vostre bombe? Invertiamoli, magari. Arco con Y, mi sta bene. Anzi, con X. Teniamolo con X. Eeeh, non lo so. Boomerang serve a poco. Tutto il resto serve a poco. Immaginografo, perché no? Sappiamo bene che i boss... I boss è meglio fargli le fotografie finché si può. Questo non in realtà. Vabbè, ehm... Dico che non faccio pause, ma qua ho deciso di fare una pausa. Prima del boss. Per giustizia al boss. Quindi, grazie di aver guardato questo dungeon. Ci vediamo contro il boss. Bye bye e buonanotte.